Entra nel lago Maggiore e poi diciamo che il Ticino è consistente e esce dal lago. Sono 110 km di asta fluviale protetta, intorno alla quale a destra e a sinistra ci sono 20.000 ettari di boschi. C'è un gioiello che veramente... infatti quando stavano cambiando le leggi sui parchi e volevano restringerli, non si può permettere una cosa del genere. Cioè noi godiamo di questo, perché se negli anni 70 non si fosse creato il parco, qui sarebbero stati Milano 4, 5, tutte le succursali di Milano, c'erano proprio interessi mostruosi.